E' stata portata in elicottero all'ospedale di Brescia una bambina di 10 anni rimasta coinvolta in un grave incidente frontale a Bregnano sulla strada provinciale ieri verso le 19. Risulta essere il ferito più grave tra le 6 persone che si trovavano a bordo delle due vetture. La strada è stata provvisoriamente chiusa per permettere ai soccorsi di operare agevolmente. L'incidente è avvenuto in via Beato Michele Carcano. L'incidente è avvenuto in via Beato Michele Carcano